Se continua così, continua a piovere, c'è il rischio di rimanere senza acqua. Nel Pesalese il rischio non è poi così lontano e l'allarme siccità suona già in pieno inverno. I gestori del servizio idrico lo hanno messo nero su bianco in una lettera che hanno indirizzato ai sindaci dell'autorità d'ambito territoriale ottimale numero uno. Le falde sono ai minimi come fosse giugno, mentre la portata del fiume Metauro è sotto la media e quella oltre il suo flusso vitale si è più che dimezzata. A febbraio, nel mese clou per la ricarica delle falde, sono caduti solo 5 mm d'acqua contro una media mensile di 61. All'appello manca più del 90% di precipitazioni rispetto al trend degli ultimi tre anni. A causa dei detriti la capacità delle tre dighe del furlo, delle marmitte dei giganti e di serrungarina si è più che dimezzata. Purtroppo l'interimento che questi invasi hanno fanno sì che a fronte di una capacità iniziale di 2 milioni e 8 oggi hanno circa 700-800 mila metri cubi di invasamento, quindi è una portata molto limitata. Non solo la pulizia degli invasi, i gestori del servizio idrico in vista della conferenza operativa del prossimo 29 febbraio, convocata dall'autorità di bacino distrettuale della Pennino Centrale, chiedono molto di più. Le proposte sono allora principalmente quelle di aumentare la capacità di captazione dell'acqua, o dal punto di vista della falda sotterranea, se è possibile, oppure cercando di aumentare le capacità delle dighe che abbiamo a disposizione e eventualmente iniziare a ragionare anche se c'è la possibilità di creare una nuova struttura, un nuovo bacino dove cercare di far rincetta dell'acqua che viene in qualche modo sprecata durante l'anno. Di qui il pressing di Aset e Marche Multiservizi ai sindaci dei comuni del Pesalese. Serve un piano di interventi per scongiurare la minaccia della crisi idrica. I rischi possono essere quelli di un razionalamento come è successo qualche anno fa giù ad Ascoli, come succede in altre parti d'Italia. Speriamo di non arrivarci. Serve comunque una coesione e una cooperazione da parte di tutti. Non è un problema di pochi, ma è un problema di tutti.